ciao buongiorno stamani ci avviciniamo ad una fallesia ma non per vedere nei miei doti scarse alpinistiche ma per una recensione su questo zaino si tratta dello zaino della sportiva climbing back si tratta di uno zaino da 22 litri porta corda che può essere utilizzato come un normale zaino o come travel berg una misura adatta anche per il bagaglio a mano da inserire sotto il seggiolino dell'aereo ok raggiungiamo la fallesia e guardiamo lo zaino in maniera dettagliata siamo quasi arrivati vedrai quante cose stanno dentro questo zaino da 22 litri eccoci vediamo questo zaino che ha una porta documenti per telefono frontale una comoda tasca laterale la cosa comoda è che lo zaino si apre nella parte posteriore quindi questo non si sporcherà mai la zona a contatto con le spalle ecco qua qui abbiamo veramente il filo comodissimo in cui avvolgere la corda e che può essere utilizzato in questo modo comodissimo in cui abbiamo ancora spazio praticamente c'è il guscio l'acqua mangiare mangiare le varie calzature imbraco tutti i moschettoni questo zaino l'ho trovato in sconto su bike sport adventure che offre un ottimo servizio online le varie attrezzature che hai visto lo comprate su all you read che anche esso offre un ottimo servizio di vendita online con spedizione gratuita in tutta Italia bene aspetto i commenti i tuoi commenti qui sotto questo video se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriviti al canale di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video keep in touch alla prossima ciao ciao